A Mussomeli la Guardia di Finanza ha individuato tre venditori ambulanti di frutta risultati sprovvisti della necessaria autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio ambulante. I militari oltre a sequestrare la merce ancora invenduta, circa 850 kg di frutta di stagione, hanno contestato una sanzione di 516 euro ai singoli venditori. Avendo accertato la legittima provenienza della merce, essendo stati assicurati dagli uffici competenti dell'ottima qualità della stessa, hanno provveduto a consegnarla al Comune di Mussomeli, che a sua volta ha curato la distribuzione della merce alle diverse associazioni presenti sul territorio, già impegnate nel sociale. L'attività ricade tra quelle previste nell'ambito del contrasto dell'abusivismo commerciale, disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, e si inquadra nell'ambito delle iniziative coordinate dal Prefetto di Caltanissetta, per garantire la concorrenza tra operatori commerciali operanti nel mercato nisseno. Intanto prosegue l'azione di controllo economico del territorio da parte delle fiamme gialle in tutta la provincia di Caltanissetta, fanno sapere dal Comando Provinciale, al fine di garantire la legalità nelle fasi del commercio ambulante, soprattutto di generi alimentari, con lo scopo di tutelare la salute dei consumatori e nel contempo salvaguardare i venditori provvisti delle prescritte autorizzazioni che operano in maniera lecita.